E' davvero d'eccezione, è un personaggio multisfacettato del mondo del cinema che è riuscito a fare e a cambiare il cinema americano. Come sapete Locarno è un luogo in cui si celebra la storia del cinema ma anche in cui la storia del cinema si reinventa. E la persona che omaggiamo questa sera è proprio uno di quei grandi inventori che hanno saputo prendere il cinema e farne qualcosa di diverso. E' un produttore, regista ma soprattutto un grande visionario, qualcuno che ha dato forma a racconti diversi che toccavano tutti i generi. Una persona che ha lanciato generazioni di registi e di attori, che ha portato al cinema generazioni di spettatori e che soprattutto proprio come Locarno ha sempre guardato avanti al futuro. Il nostro guest oggi è una persona che ha fatto e cambiato la storia del cinema americano e ha dato un nuovo significato al cinema indipendente. E' molto felice e felice che è con noi oggi. E come sempre, vogliamo mettere l'immagine in cui fare la parola. Oh, goody, goody, here it comes. Oh, my God, don't stop now! Well, I made a lot of holes and now I gotta fill it up with this here silver stock. Well, aren't you gonna pull any? Well, uh, I'll go on. Hey, Tom, come here. There's your invaders. Not much of an army, is it? There's your invaders. Bye. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.